Ok, le slide sono pronte? Perfetto, la registrazione è stata riattivata? Sì? Ah ok, perfetto, quindi è la volta adesso di Alessandro Gallimberti, che è un giornalista professionista, nella redazione dell'Inserto del Sole 24 Ore, enorme tributi che io leggo in quanto avvocato abbastanza frequentemente ed è sempre una fonte molto utile, molto chiara, e fino a poche settimane fa era presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ci parlerà ovviamente del punto di vista del mondo dell'editoria giornalistica, del giornalismo, che come abbiamo già visto dagli interventi precedenti è uno degli ambiti più toccati da questa direttiva, quindi il titolo del suo intervento è Il recepimento della direttiva Copyright, presupposto per la sostenibilità del settore dell'editoria e per l'indipendenza dell'informazione professionale. Prego. Bene, grazie per l'invito, grazie per avermi portato qui oggi a parlare di un tema che mi sta molto a cuore, di cui mi occupo da almeno da più di dieci anni, un po' come giornalista del Sole 24 Ore della redazione di enorme tributi, un po' come presidente dell'Ordine della Lombardia, sono stato presidente per quattro anni, fino a due settimane fa, fino alla settimana scorsa, e in questa veste, tanto per capire come la penso e qual è il mio approccio che è molto radicale sul tema, non lo nascondo, ho sottoscritto ad aprire in piena lockdown del 2020 un esposto penale, una denuncia contro i canali di Telegram e WhatsApp per la distribuzione abusiva e illegale dei PDF, dei quotidiani e non solo, di tutte le pubblicazioni italiane servite e consegnate a domicilio ogni mattina all'orario desiderato dalla catena Telegram a qualsiasi utente. Devo confesso che la gravità di questa situazione l'ho scoperta da giornalisti del Sole 24 Ore, di enorme tributi, frequentando i congressi dei commercialisti, che storicamente commercialisti e avvocati, soprattutto i commercialisti, sono il patrimonio di abbonati del Sole 24 Ore, che fino al 2001, quindi per riferirci a una data di cui abbiamo parlato poco fa, vendeva 400.000 copie al giorno tra abbonamenti in edicola e edicola pura. Frequentando questi congressi e chiedendo a tutti e ti riconoscono come sì, enorme tributi, il Sole 24 Ore, grande qualità e tutto, sì io sono stato abbonato, sono stato abbonato e il motivo per cui le disdette abbonamenti erano perché abbonarsi quando Telegram tutte le mattine mi fa vedere non solo il Sole 24 Ore, ma anche Italia Oggi, Milano Finanza, tutto il panorama, il Corriere della Sera Repubblica. Allora, confesso la mia retratezza non tecnologica ma piratesca da questo punto di vista, che ho fatto iscrivere mia moglie giusto per vedere se le cose funzionavano in questo modo, le cose funzionano in questo scandaloso modo, scandaloso modo, e ho preso uno degli avvocati consulenti, peraltro sono anche i miei amici molto vicini a me e ho chiesto di fare un esposto molto mirato su Telegram e sapendo anche quali sono le attitudini della Procura di Milano, ho fatto l'avvocato e cronaca giudiziaria per tanti anni, abbiamo anche inserito il profilo fiscale, cioè della residenza Dubai di Telegram. Il dramma è che una catena come questa distribuisce gratuitamente un'edicola fatta su misura ogni mattina, per, all'epoca erano 736.000 iscritti a questa catena, un danno che poi la FIEG che stava lavorando ovviamente su un proprio canale, su un proprio ambito, su questo tipo di violazione del copyright, ha stimato in danni per 670.000 euro al giorno e circa 270 milioni di euro sottrati ogni anno, stima per difetto al sistema dell'editoria, questo semplicemente con le copie PDF piratate e messe in commercio, perché in realtà, anche qua, mi è piaciuto molto l'intervento di Mazziotti, dobbiamo smettere, dobbiamo uscire da questo mantra culturale che è un perfetto incrocio tra sinistra radicale e destra iperliberista, consiglio a tutti questo libro per chi ancora non l'avesse letto, questo mantra secondo cui, allora lui è Jonathan Taplin, i nuovi sovrani del nostro tempo, Amazon, Google e Facebook, è un libro credo del 2016, ma ancora molto attuale, e perché fa capire sostanzialmente una cosa, come siamo tutti schiavi di un conformismo culturale generato, che ha un lunghissimo antecedente storico perché parte dalla metà degli anni Sessanta, e quando nel 96-97 parte il sistema commerciale di Google e poi quello dei social media da 2003, insomma, con la comparsa di Zuckerberg, ci fa capire come il mondo era pronto ad assorbire questa grandissima novità tecnologica come un mantra con dei crismi culturali che sono esattamente l'opposto di ciò che questi player rappresentano, cioè libertà, democrazia, orizzontalità, gratuità, felicità, gioia, amore, condivisione, niente di tutto questo, in realtà si tratta dei grandissimi concentratori di ricchezze, dei monopolisti che non fanno altro che assorbire, ho spiegato che la mia posizione è radicale sul punto, nonostante, anzi appunto perché lavoro in un giornale che del liberismo fa, della libera iniziativa fa il suo veramente mantra, è un sistema che aspira le risorse, aspira le energie, aspira la creatività, aspira la ricchezza, la tiene per sé, punto, fine. Basta vedere come sono capitalizzati alla borsa di Wall Street. Ora, i cinque big, i gaffa più uno, come vengono solitamente individuati, ognuno di questi è tagliato da tempo, facendo magari un balletto avanti e indietro qualcuno ha raddoppiato la cifra inconcepibile, se stiamo dentro quel mantra culturale, ma se invece non ce ne usciamo capiamo subito perché tutti hanno abilmente e con molta facilità superato la cifra, alcuni doppiato la cifra dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Qualcuno deve chiedersi da dove arriva quella ricchezza, che non è stata parametrata in termini monetari attuali, contemporanei, non era nemmeno paragonabile, in quanto è molto più vasta di quella che aveva Rockefeller all'inizio del novecento, quando fondò quella grande monopolio del petrolio che poi appunto, perché è grande monopolio del petrolio, venne diviso nelle sette sorelle. Allora, stiamo parlando di mostri che estraggono valore prodotto da altri, ne fanno una propria ricchezza e generalmente non ridistribuiscono nulla. Potrei parlare ora di questo tema, ovviamente non posso farlo in questo contesto e mi limito a rientrare nei binari del mio intervento. Cosa succede al mondo dell'editoria? L'impatto delle nuove tecnologie digitali sul mondo dell'editoria, in particolare sul sistema delle imprese editoriali. Aggiungo, tra le cose che non ho detto ma che sono significative per capire le mie considerazioni, io ho anche firmato piani di crisi all'interno dell'azienda, piani di crisi e di ristrutturazione. L'ultimo fatto allo Sole 24 nel 2015 porta anche la mia firma, quindi conosco bene l'impatto economico della trasformazione digitale all'interno dell'azienda editoriale. non sto parlando per dogmatismo o per contromatrice culturale. Il problema è che dentro questo conformismo culturale si è fatto passare l'idea, e molti miei colleghi molto radical e anche molto chic sono anche paladini di questa trasformazione, che ci sia una contrapposizione che la crisi dei giornali stia nel non aver capito che bisogna farsi conoscere, parlare e essere presenti sul digitale. E che quindi il mondo dell'editoria tradizionale è il mondo della carta, la carta va a morire, non l'avete capito, però poveri voi che non l'avete capito, siete nipoti una volta cinque anni fa, è tutto su YouTube per fortuna, un dibattito con uno di questi colleghi molto famosi, Luca Soffri, al mio obiettare alcune considerazioni un po' più diffuse di quanto farò oggi, ma molto argomentate su questo tipo di dinamica, mi disse, guarda tu sei un nipotino di Gutenberg e puoi anche addormentarti tranquillamente, domani mattina il mondo sarà ancora digitale e tu sarai ancorato alla linotype e al piombo. Evidentemente il problema non è questo. Il problema è che nell'economia tradizionale, quella che per l'editoria, per l'editori di giornali quotidiani ha continuato a produrre importanti utili fino al 2007 e 2008, la grande crisi dell'editoria cartacea proprio si radica in quel momento per una serie di concomitanze sullo scenario geopolitico, finanziario eccetera, però fino a quel momento l'editoria giornalistica che viaggiava attraverso la carta maturava ancora importanti margini di profitto per un semplice motivo che è il cuore del problema. Il valore della produzione e il valore dell'opera viaggiava integralmente nel veicolo con quale l'opera veniva commercializzata e cioè all'acquisto della copia di giornale in 1,50 euro, tutti i fattori della produzione 1 euro, 1 euro e 20, 1 euro e 50, 2 euro, solo 24 ore, venivano e ancora oggi in piccola parte perché questo è un mercato residuale, vengono remunerati attraverso il passaggio fisico della copia cioè il valore cartaceo, la carta incorpora il valore della produzione, cioè remunera l'attività industriale remunera soprattutto l'attività redazionale di produzione di contenuti, remunera l'attività di organizzazione aziendale per produrre contenuti, avere giornalisti dipendenti e quant'altro. Il problema che viene rimosso dalla coscienza collettiva, dalla cultura collettiva, ma non è un caso ci sono trent'anni di preparazione a questo mantra del bellismo dell'ambiente digitale è che con la smaterializzazione del giornale e la digitalizzazione il valore non viaggia più incorporato nel veicolo semplicemente si disperde. Se il giornale non viene comprato in edicola il proprietario, l'editore, fa moltissima fatica a recuperare, non dico i ricavi, i semplici costi della produzione. Il tema è molto articolato e non posso che farne una, ovviamente una narrazione molto sintetica per non sforare ulteriormente anche i tempi, ma attraverso le tecnologie, attraverso gli OTT il valore economico dell'opera giornalistica evapora completamente. Gli editori non sono più in grado di recuperare il primo pilastro del loro fatturato che è la vendita del canale edicola, o comunque la vendita di contenuto e contemporaneamente subiscono a partire dal 2001 e con una Niagara Falls proprio dal 2007-2008 viene attentato anche al secondo pilastro della remunerazione degli editori che è la vendita di spazi pubblicitari, quelli che vengono detti di spazi tabellari sul quotidiano. Anche qui c'è, come già diceva in intervento poco fa, credo anche il professor Mazziotti sul tema, c'è un intervento sul mercato della pubblicità che è molto più efficace, molto più mirato, molto più profilato da parte degli OTT, che non solo utilizzano attraverso, qui sto facendo alcuni salti logici, ma è materia che tutti quanti comprendiamo anche intuitivamente, che non solo utilizzano i contenuti prodotti dai giornali e distribuiti, come diceva poco fa Mazziotti, dagli singoli utenti, qualcuno prende il pezzo al Corriere della Sera sulle 24 ore e lo ripubblica sul proprio LinkedIn e lo ripubblica sul proprio Facebook. Benissimo, di questa attività, la remunerazione di questa attività sfugge al 99% a chi ha prodotto il contenuto, cioè l'azienda editoriale RCS piuttosto che il gruppo 24 ore. Ma finisce due volte nelle tasche del intermediario, siamo nell'epoca della nuova intermediazione digitale, il mantra dell'orizzontalità dell'uno vale uno, sono vere e proprie stupidaggini, di quali dovremmo cominciare a liberarci proprio con un moto di ribellione sociale. Finisce totalmente nelle tasche del profilatore, perché è il gestore della piattaforma che profila e analizza i comportamenti dell'utente che prende ripetutamente i pezzi e solamente i quattro ore di posta, ma soprattutto poi è anche in grado di intercettare i comportamenti dei destinatari di questi contenuti e quindi di intervenire sul mercato della pubblicità, privando totalmente di significato la pubblicità classica fatta dagli editori. Fare una pubblicità dell'automotive su solo 24 ore, sul Corriere della Sera, stiamo parlando di asset che fino a pochi anni fa incidevano per il 24-25% sull'intero budget pubblicitario, quando il budget pubblicitario dei quotidiani è una cosa seria, è molto più efficace che la Jaguar, faccio un esempio commerciale, dico un nome a caso senza voler ovviamente discriminare nessun altro, è molto più orientata a fare pubblicità mirata direttamente a un potenziale pubblico di acquirenti dell'auto che il profilatore digitale conosce perfettamente, mentre nel pubblico elitario ma indifferenziato che legge solo 24 ore non è detto che ci siano così tantissimi lettori interessati a quel tipo di prodotto dell'automotive. Quindi questo per dire, tirando un po' le file del ragionamento, che l'industria editoriale, soprattutto per chi produce i quotidiani, davanti a questo nuovo tipo di organizzazione, diciamo così, sociale, di distribuzione totalmente centralizzata e apparentemente diffusa, alza completamente bandiera bianca. I ricavi editoriali sono in tracollo, io non voglio portare dati di editori, anche il mio, del resto sono pubblici, sono società quotate, ma sono drammaticamente evidenti nella loro evidenza, nella loro crudezza. Il budget pubblicitario nel sole 24 ore è passato, non il budget, ma i ricavi pubblicitari sono passati dal 2008, parlo di dati pubblicati di società quotata, quindi non sono segreti, chiunque li può trovare. Passiamo da 193 milioni di euro di raccolta pubblicitaria del 2009, che scendono a 107 milioni nel 2012. Oggi qualcuno ha idea di cosa possono valere? 46 milioni di euro. Questo era il canale che nella, diciamo così, nella sezione aurea del business model dei quotidiani degli anni 2000, negli anni 90 e 2000, i ricavi pubblicitari rappresentavano tra il 50 e il 60, 62% dei ricavi complessivi di un editore di giornali. Per quanto riguarda i ricavi diffusionali, potete immaginare, esaurito il canale di Icola, che dava un ritorno certo economico alla, come detto prima, il giornale di carte incorporava il valore, diventava la stessa transazione economica, esaurito anche quel canale, farsi pagare la copia è diventato praticamente impossibile. Gli editori hanno cercato, sbattendo la testa, secondo me con grave ritardo, soprattutto in Italia, sbattendo quella la testa alle redazioni e gli editori, hanno cercato di introdurre il sistema wall, dopo 20 accessi la registrazione, ma non funziona. Sono stati provati negli anni i meccanismi dei micropagamenti, cioè compro un solo articolo, non funziona semplicemente perché questi contenuti si trovano gratuitamente in internet. Non basta nemmeno, è sufficiente essere dentro qualsiasi community di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, per leggere sostanzialmente le cose che mi interessano, perché il profilatore, che è l'OTT, che è la società che mi fornisce queste cose, sa benissimo cosa voglio leggere e mi fornirà ogni giorno, che io, con la mia consapevolezza o meno, una perfetta rassegna stampa. Ecco perché il ricepimento della direttiva copyright, qua faccio un importante salto logico, ma potete facilmente seguirmi, è di capitale importanza per la sostenibilità delle imprese editoriali. Ora, cosa è successo correlativamente sul mercato del lavoro giornalistico, cioè nel campo dell'occupazione giornalistica negli ultimi vent'anni? Cominciamo da questa slide che ha pubblicato l'Impici, quindi la stiamo vedendo, l'ho titolata io perché questa serie storica parte dal 2008, arriva, si legge meglio qua, si legge meglio sullo schermo, a un picco di giornalisti con contratto di lavoro articolo 1, che vuol dire dipendenti a tutto tondo, con un contratto sindacale della FNSI, con delle tutele, e una remunerazione ancora accettabile, non più di alta fascia come potrebbe essere in anni 90, ma ancora accettabile. I giornalisti, compreso quelli della RAI, attenzione, che oggi è la più grande azienda editoriale per numero di giornalisti, e questo è un problema che altera parzialmente il mercato del lavoro, perché la RAI, come sapete, non ha un problema di sostenibilità, c'è sempre un Parlamento dietro che mette, le aziende editoriali non hanno il Parlamento dietro che mette, se non sui fondi del risostentamento degli stati di crisi. Comunque si passa da 22.000, credo a 197, credo nel 2008, qua è molto sfocato, non riesco a vedere, nel 2009, si passa a 18.380 nel 2015, ma sapete oggi quanti sono i giornalisti? 14.500, siamo arrivati all'inizio, alla metà del 2021. Non parliamo di rinnovi contrattuali perché sono fermi da dieci anni, lo stesso sindacato pare si sia dimenticato del dovere di rinnovare un contratto, e non c'è nessun accenno di risalita del rapporto tra pensionati e lavoratori attivi. Qualcuno penserà, certo, ma si è incrementato il lavoro da freelance, cioè il lavoro autonomo da committente, l'editore come committente di lavoro esterno. Ecco qui, può venire utile la mia esperienza di presidente dell'ordine delle giornaliste a Lombardia, 24.000 iscritti, un quarto dell'intera popolazione nazionale. In questi anni ho visto circa 1.200, 1.300 domande di iscrizione all'ordine tra pubblicisti, praticanti e professionisti. La retribuzione, c'è una forbice nella remunerazione di articoli giornalistici, degli classici pezzi, che va, guardate che non sto inventando, parla di cui ho esperienze dirette dai 2 euro, e arriva, in alcuni felici casi, anche 30-35 euro per remunerazione di un articolo. Stiamo parlando di editori consolidati, grandi, storici. Oggi il Sole 24 Ore paga 0,80 euro a riga, 55 battute, che è una remunerazione probabilmente di fascia alta, ma se faccio questi esempi è per dire che non è che il tramonto del lavoro dipendente giornalistico sia stato compensato da un aumento della massa degli stipendi e delle remunerazioni del lavoro dipendente, il contrario. Quella è una popolazione che si sta estinguendo e il lavoro freelance da esterno nel giornalismo è praticamente impossibile. Allora, cosa si può fare? Si può andare avanti a richieste di stati di crisi. C'è una legge sugli stati di crisi nell'editoria che è del 1981 e che continua a svuotare il sistema, come si mostra in quel grafico. Una legge sugli stati di crisi che prevede anche un sostegno pubblico importante nel prepensionamento dei giornalisti. Nel 2015 la ministra Madia fece una legge, prima un decreto, poi convertito in legge, che prevedeva che per ogni tre giornalisti prepensionati l'obbligo di assunzione di un giornalista, peraltro a condizioni contrattuali molto diverse, perché c'è dentro un gap anagrafico e ovviamente di ere storiche economiche molto diverse, ma nemmeno quella legge è servita a dare un tasso di sostituzione del lavoro. Allora, dov'è l'unica via di uscita qui? Non voglio, non so da quanto sto parlando, ma credo debbo fermarmi. La legge sul copyright. Perché è inaccettabile, inaccettabile, che ci siano degli operatori, che sono degli oligopolisti mondiali, al di là di come poi sono stati definiti questo pomeriggio, si tratta economicamente dei monopolisti barra oligopolisti, che continuano ad assorbire risorse senza ridistribuirla. Si tratta di editori veri e propri, Google, Logic e Kenneika Gingras, venuto a Varese due anni fa, col quale tre anni fa, col quale ha avuto una lunga conversazione. Google è un editore, perché semplicemente fa una gerarchizzazione, propone un menu esattamente come fa il direttore di un giornale, quando decide di fare la prima pagina per i suoi lettori. Google è un editore, probabilmente editori sono da classificare anche per il motivo della profilazione, insomma dell'offerta di contenuti graditi all'obiettivo, anche i social network sono da considerare tali, ma in ogni caso, a prescindere da ciò, non è ammissibile che continuino a utilizzare opere creative e collettive, come siano i giornali o i singoli articoli di giornale, prodotti con costi aziendali da editori e non venga riconosciuto un centesimo ai titolari di questi diritti, che sono giornalisti, i giornalisti dipendenti cedono il dirizzo d'autore al loro datore di lavoro all'azienda, poi ci sono anche i freelance che lo cedono parzialmente, ma non voglio entrare su un tema sul quale mi muovo con un po' di difficoltà. Cosa può dare dal punto di vista economico, io spero che non abbia ragione il professor Mazziotti, cosa può dare la legge sul copyright, la direttiva europea sul copyright recepita al sistema dell'editoria? Io mi auguro che dia il sostegno unico che può arrivare oggi alla sostenibilità dell'intero comparto. Parliamo di numeri, oggi credo che il gruppo 24 ore abbia un accesso, vedevo i dati di Audi Web di settembre, di 636.000 dispositivi mobile al giorno. Considerate che, ora do dei parametri che non sono precisi, non sono neanche autorizzato a darli, ma comunque i trend sono simili in tutte le testate, prendetele per una dichiarazione mia personale, più del 55-60%, circa il 55-60% degli accessi a quei 636.000 utenti unici giornalieri ai prodotti editoriali del gruppo avviene attraverso intermediari. Quasi nessuno passa direttamente dalla home page sulle 24 ore, come pochissimi in percentuale, se è una parte minoritaria è chi passa dall'home page di Repubblica piuttosto che del Corriere. Ci si arriva quasi tutti attraverso i social, o attraverso i reindirezzamenti. Allora, facciamo un calcolo banalissimo e puramente virtuale, non prendetelo ovviamente come un business plan perché non lo è, ma semplicemente per capire l'ordine di grandezza. Se anche di 300-350.000 utenti unici giornalieri che leggono, mettiamo anche un solo contenuto al giorno, venisse riconosciuta la remunerazione di un centesimo per ogni contenuto scaricato, profilato, indirizzato e consegnato da un intermediario digitale. Noi avremmo, penso, 35.000 euro, 40.000 euro al giorno di ricavi, in realtà si tratta di diritti già maturati in quanto già utilizzati da terzi che finiscono nelle casse di un editore di medio livello, come può essere il gruppo 24 ore. Pensate a gruppi come Gedi che ha credo 12 milioni di utenti unici al giorno o RCS che ha 5 milioni di utenti unici. Allora, credo che purtroppo non c'è niente di più moderna di tornare all'antico da un certo punto di vista. E cioè, non facciamoci cogliere da questa distopia, da questa difficoltà di inquadramento del tema. Il problema è remunerare i contenuti. Se un contenuto viene prodotto da... Se il contenuto ha un costo di produzione che consiste nell'organizzazione di un'azienda, nella remunerazione di giornalisti per avere la cosiddetta informazione di qualità, un'espressione orribile, perché l'informazione è un'informazione o non è informazione, qualità non c'entra nulla come scomplimento di specificazione, va remunerata, deve essere remunerata. Dobbiamo trovare delle fonti di remunerazione. Il titolare dei diritti è chi lo produce questo contenuto. È il giornalista, è l'azienda che consente al giornalista di dedicarsi come artist liberale e sa a studiare documenti o a viaggiare e fare interviste alle persone. E l'unico mezzo per arrivare a una dovuta, minima, se non equa, retribuzione dei contenuti di cui oggi gli editori sono deprivati, è quello di un compenso che arrivi dal tracciamento digitale. Adesso l'ho espresso in modo molto complicato e verboso, un tema molto semplice. Facebook utilizza un milione di contenuti al giorno di un editore italiano. Benissimo. Ogni singolo parte di quel milione di contenuti deve trovare una remunerazione. È un problema di antitrust. Non lo so, sì, forse, ma perché nel 2012, quando la Francia chiamò Google, ci fu il presidente Hollande, credo, che chiedisse a Google di presentarsi davanti al ministero per fare un accordo con gli editori. Google fece una consapevole, io vorrei leggervi alcuni passi bellissimi di questo libro, ve lo consiglio, e non sono un promotore dell'opera, ma serve a capire qual è l'atteggiamento culturale di questi player. Google fece quello che considerò poi è esposto un errore di dire, ok, siccome ci appropriamo dei contenuti editoriali degli editori francesi, paghiamo 65 milioni, e pagò 65 milioni in one shot che vennero utilizzati nel 2012 per la transizione digitale degli editori. Quindi, voglio dire, leggendo queste cose si capisce bene, ma un senso di pudore, i grandi OTT ce l'hanno, sanno benissimo che stanno utilizzando contenuti e ricchezze altrui. Portarli a un tavolo è un dovere dei governi, del resto l'Australia mi sembra abbia utilizzato in una maniera anche più robusta per convincere Google a remunerare gli editori, e credo che l'Italia non debba avere timore in questo momento a recepire, a pubblicare finalmente questa direttiva, e poi a badare che una remunerazione alle società editoriali dei quotidiani, che sono comunque un cardine della democrazia, debba in ogni modo arrivare. Mi spiace di aver concentrato in troppe parole, in poco tempo, dei concetti molto complicati, però ho cercato di dire il minimo indispensabile per questo, per la comprensione del fenomeno. Poi abbiamo modo di avere le slide, una relazione, se si vuole aggiungere cose, noi abbiamo un repository apposta per il convegno, quindi di materiale possiamo mettere a disposizione. In questo grafico si vede com'era la ripartizione dei ricavi pubblicitari tra il 2001 e il 2020. Io ho messo delle note che spero siano leggibili, non mi ricordo. Comunque la parte gialla sotto, arancione, adesso non so come la vidiate, rappresenta la TV che nel 2001 aveva incassi pubblicitari per circa 3 miliardi e 900 milioni di euro. Vedete com'è l'andamento e nel 2019 e il 2020 lo lasciamo perdere perché è pre-Covid, perché è Covid pieno, aveva ancora circa 3 miliardi e 600 milioni di ricavi pubblicitari. Certo, non ha avuto un incremento, ma nella serie storica ha perso tanto, ma relativamente poco. I quotidiani, che è l'area grigia, sono passati da un miliardo e nove di raccolta pubblicitaria nel 2001 a poco più di 380 milioni nel 2019. Quello, la pubblicità, è il secondo pilastro che nei giornali rappresentava circa il 50-55-60% dei ricavi. Quando parlo di sostenibilità del sistema editoriale sto parlando di queste cose. Qualcuno deve farsene carico, non sarà un Parlamento inadeguato, ma qualcuno deve veramente pensare a non consegnare la nostra civiltà a degli operatori. Vi invito nuovamente a leggere questo libro, che della civiltà non hanno un grande rispetto. Internet è la somma di due culture, l'estremismo radical chic dagli anni 60 di San Francisco insieme al capitalismo iperliberista dell'ultradestra. Entrambi questi estremi hanno una remitenza totale per le regole. Ricordiamocelo. Impariamo a considerare l'ecosistema di Internet per quello che è la sintesi di questi due estremismi. Grazie. Grazie. Allora, Internet come... Idealisticamente Internet come terra della libera espressione, della democratica, poi purtroppo stiamo vedendo una sua deriva ipercapitalistica. Questo è chiaro e sotto gli occhi di tutti, cioè la concentrazione di capitali e di ricchezza economica che nelle mani di quei 5 o 6 grandi soggetti non si era mai vista nella storia dell'essere umano effettivamente. Alessandro Galimberti ci ha riportato terra a terra con le cifre che a volte è il modo migliore per capire effettivamente con quali problemi ci stiamo scontrando. e...